Voi server on server on Andiamo raga subito Server on chat server on server on server on server on server on E' server on c'è raga l'ho detto L'hai vista la schermata di caricamento? Aspetta c'è trailer raga Vabbè l'abbiamo già visto chat non so qua a riguardarlo Oh shiit Che è successo? Pass battaglia Ok Ok Bellissima Scherzi Bellissime Ma sei in gioco? Si si sono già in game Fai vedere pass battaglia E' stra veloce l'ha performata un casino L'ha performata un casino il gioco Fai vedere se si buggerà gli amici Vado solo se si buggerà gli amici Vediamo Nooo Non si buggerò più Si 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 Hai ragione Scri Perchè sta roba è luccicosa? Ah caglietto Nel volto posso già upgradeare la t- Bello questo Bello il backpack Io non ho capito il bonus Comunque non te lo fa vedere Non so che sia I strepi coni affetta e distruggi di brutus Del dorso che devi farti vedere Non te lo dice Questo neanche Questi poco mi interessano Questa skin brutus Massa quanto è grosso regà E' enorme questo brutus Veramente incredibile Abbiamo Kaboom e alcuni V-Bucks Ok ma noi vogliamo acquistare Altro vasto battaglia Grazie dobbiamo acquistare Altro vasto battaglia Ah visto si può pogradare Maya La può pogradare come vuoi Va bene Ma la mappa è uguale Completamente identica Banners Ok perché non mi ci ha mandato ragazzi Un attimino Ma c'è solo questo Possiamo comprare Ah Ho capito quale canzone è questa L'ho capita C'abbiamo questa qua Che è caruccia Questa è bella Ci sta Vi ricordo di shoppare con il codice creatore Ciccacamera89 ragazzi E che sennò siete del merda Ok questo è uno zainetto Abbiamo il graffio solido Vediamo un po' Ciccacamera Aspetta un rumendo Va bene Abbiamo questa qua Ci ho parole io per quello che fanno Fammi vedere Novità è cosa ti posso dire Tutto AK Jump Rampino infinito Lancia missili Tomson infinita Non so Schedine La mappa non è uguale ragazzi La mappa è uguale Ma sono state aggiunte Cinque zone nuove E se dico nuove Sono proprio nuove Che prima non c'erano Non è che hanno sostituito Delle zone Tipo questo Pensa che è la prima volta Che ci l'hanno Pensa quanto cazzo gioca One in the bank Dammi i soldi L'abbiamo asfaltato Vincenzo Ma cosa Stai dicendo Cosa stai dicendo Ma siamo scemi No è a chi No è a chi Cosa cazzo È un altro gioco Ma questa che è Olio Olio da fello Eh vabbè logico Hide Oh vincenzo Vincenzo Che hai fatto Dove sei andato Fallo Venti nel bagno Ragazzi infazzisco Ma che gioco hanno fatto Cosa cazzo giocaio C'ha sorbe No Ho perso Ho perso il nasce missi Vabbè si cazzo L'ho lasciato là Beh ma non siamo lontani Credo Credo No 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 Siamo là Sto là Sto là Sto là No io lo capisco C'è Un rampino Oro infinito Andiamo dai Sali Cazzo le frega Vedi un po' Quei rampino Noi siamo Rupi in movement Tu vai Io ti seguo Che sanza ragazzi Messina Cosa hanno fatto Questa Questo è sbagliato Questo è Oggettivamente Sbagliato No ma secondo me Hanno sbagliato Hanno sbagliato A mettere le cose E' una marea di roba E' vero E' vero E' una marea di roba Davvero Merino come aggiornamento Dai Sì E' un bordo di roba Calcola che ho Bello lo io Ho provato C'è gente Ho provato a fare un video E' stato figo Cioè Sì Ma tu non puoi capire L'agenzia Io sono entrato dentro L'agenzia Mirko Cioè Non puoi capire Che figame E' il centro della mappa Si chiama agenzia Ma che c'è andato io Ah bellissimo Beh sì Ma tu l'indirizzo L'hai scritto bene Che è sicuro Eh Ale Sicuramente Ma apriendo al culo Guarda No sicuramente Farò l'agenzia Pure mio fratello Sicuro Eh Ale Io te l'ho inviato Eh Hai scritto qua Guardiamo Ha capito Poi ci sono gli NPC Che droppano le cure Oh ma chi cazzo è Che mi spara Eh i bot Oh merda I bot droppano Un casino Ste cose Ste Scagnozzo Non capisco Sì 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 Ma c'è una torretta Ti sento nemmeno E non riesco ad entrare Giro Io sto morendo Ragazzi ma c'è lo scar blu What Ragà What the fuck No vuoi tenere l'SMG silenziato Ragazzi Eh sì Cioè si trovi quella carta Perché devi uccidere le scuole Oh le nuove bombe E a chi Sei fermo Sei fermo È la shadow No VECCHIO Ma lo guidi tu No Ma che cazzo sei Naruto vecchio Guarda Ma come si muove Dovevo sperare Al tema Dopo un po' muore Dopo un po' muore Ma la lo boxi Eh sì E ti fai materiali Ti fai Ti fai Ti fai 400 materiali Easy No ma puoi anche buttarlo La gente lo picca In tenere una cerchinata No way ragazzi Quante ne hai? Ne ho tre di base Quindi sono 450 materiali Boxo 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 Quindi è inutile Ti dice dove sono le sfide E questa è una cosa molto carina Non lo so C'è qualcosa di strano Ragazzi Permettetevi di dirmelo C'è qualcosa di strano Ok in questa stagione C'è qualcosa di tipo Di non so Ok che non riesco a capire Sono l'unica a pensarlo Che c'è qualcosa di strano È come se mancasse qualcosa Mi manca questo posto qui da vedere E questo Non si capisce niente Tutti i scagnozzi che sparano Fanno C'è Intuito Non ce l'ho vado Tanto ragazzi 12 ore E sapete tutto quanto Anzi guardate Meno di 12 ore In 6 ore Sapre molto quanto Ma che ci frega A noi Ma che abbiamo aspettato Quattro mesi e mezzo Ti pare che non aspettiamo 6 ore ragazzi Ma certo che lo aspettiamo Che c'è